Senza biglietto, aggredisce il controllore e fugge. Pullman di città pericolosi, tra i dipendenti dell'AMAT, cresce la preoccupazione. Un altro episodio di violenza si è verificato ai danni di un lavoratore della società. Nella mattinata di lunedì, sulla linea 1-2, un controllore è salito per un normale servizio di verifica. Il dipendente ha chiesto il biglietto a un viaggiatore che, sprovvisto del ticket, è andato su tutte le furie, diventando subito aggressivo. Tanto che ha anche sferrato un pugno al malcapitato. Dopo ha abbandonato precipitosamente l'autobus, prendendone un altro alla fermata successiva, fuggendo infine anche da quest'ultimo mezzo. L'aggressione è avvenuta all'altezza di via Principe Amedeo. Nel pieno della mattinata, il dipendente dell'AMAT ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto. Sono stati necessari tre punti di sutura allarcata sopraccigliare, sette i giorni di prognosi. La sua colpa, soltanto quella di aver svolto il proprio lavoro.